Allora, continuano i lavori per sistemare lo stradone di Cursi Italia, qui a Piazza Tasso e Largo Parsano Vecchio a Sorrento. Ecco, Sorrento si prepara nel migliore dei modi per la Pasqua. Come avevo detto, c'erano dei problemi che poi faceva capitare anche a tutte le donne con i tacchi. Per farci capire che non ci espicavano. Ora si stanno facendo i lavori in modo da chiudere questi vuoti e rendere più omogeneo il percorso. E' quindi anche meno pericoloso e difficoltoso. Positano News, come sempre, segue tutto ciò che riguarda la Piazza Sorrentina e Costiera Manfidana. Di una persona si comincia a muovere un po' di turismo e ci si prepara sicuramente un soldato per la Pasqua. I lavori proseguono, ecco. Buon weekend.